controllo all'oscilloscopio per il qrm eliminatore per lo sfasamento se tutto è montato giusto bisogna vedere la fase e il game della fase devono ruotare l'immagine corrispondente sull'oscilloscopio praticamente ruotando la fase da una parte all'altra ci sarà questo discorso qui in questo formato qua ecco qui al suo massimo livello e va dall'altra parte naturalmente il game fa ruotare nuovamente l'immagine quindi ritornando indietro si fa di nuovamente la fase la rotazione di fase riportiamo al centro e poi controllando il game dell'antenna principale deve fare l'allargamento naturalmente ok in questo modo qui e in questo modo qui deve ruotare come fare la rotazione tramite game di fase ruoterà in questo modo naturalmente c'è l'inversione di fase perché il cerchio si sposta da una parte all'altra naturalmente bilanciando il tutto sarà sfasato di 180 gradi rispetto all'ingresso principale ecco questo è solo per verificare che tutto sia corretto e funzionante vabbè questo correrebbe eliminatore originale un piccolo test di funzionamento questo ecco qui circa i 180 gradi di sfasamento tra i due segnali ingresso naturalmente antenna 1 e antenna 2 in questo caso il generatore è collegato a tutti e due gli ingressi sia antenna 1 che in antenna ausiliaria però è solo per far capire lo sfasamento del segnale come avviene quindi ci sarà una rotazione di questo cerchio quindi vuol dire che la rotazione di fase c'è tra ingresso e uscito qui ci sarà l'ampiezza naturalmente però difficilmente si avrà l'annullamento di fase quindi anche se il sfasato di 180 gradi diventa difficoltoso farlo a zerare completamente